nuova puntata di fanny moon e nuovamente con noi daniele ben tornato grazie che fatto questo periodo in assenza mi sono riposato ho recuperato le parole che mancavano erano quali idiosincrasia omeostasi fantastico ma te le prepari no le studio la notte anche perché noi andiamo ci capita di andare di notte quindi probabilmente tra una puntata e l'altra cioè fammi pensare che vuol dire idiosincratia e poi te lo leggi c'è internet usalo scusa c'è internet usalo apposta perfetto mi ha dato un bel gancio quindi ricordiamo anche i nostri social internet che sono facebook e youtube perfetto quindi iscrivetevi al nostro canale youtube mettete un bel mi piace sul nostro facebook per essere sempre aggiornati per conoscere anche le nuove parole che tirerà fuori dal cilindro volta di volta in volta il nostro qui caro daniele si ricordiamo che oltre a inventare le parole fa anche il fotografo certo quindi chiunque volesse contattarti sì come fotografo come può fare attraverso instagram e ddm fotografia perfetto e che devo dire che le sue fotografie sono veramente molto belle non perché adesso sta collaborando con noi però effettivamente ci sa fare ragazze ed è per quello che per questo che l'abbiamo preso in squadra con noi non solo ti sei cimentato anche nella conduzione ultimamente sì come ti sei trovato è stata una puntata stimolante ho imparato tante cose e speriamo che desidero la pace nel mondo bene soprattutto sarei curioso di vedere quale sarà il tuo prossimo servizio dove ti vedremo all'opera sì e vediamo che cosa combinerai diamo un altro riferimento qualora servisse diciamo agli amici da casa prima di partire con la nuova puntata quest'oggi anche un caldo meraviglioso si sta bene meno male ottobrata romana quasi finalmente una bella stagione sta prendendo piede dopo tanta pioggia ma bando alle ciance sì e diamo l'ultimo riferimento che è il numero di telefono in sovraimpressione è il 3 3 3 3 3 3 8 6 9 3 dove potete contattarci se volete partecipare con noi in trasmissione quindi se siete artisti cantanti ballerini avete un gruppo musicale e volete farvi conoscere potete farlo ricordiamolo che è totalmente gratuito perfetto le sa tutte però conosce quattro parole in croce di cui le uso bene e quelle altre quattro che conosce sono usata a sproposito però va bene siamo all'aria aperta si può dire tranquillamente e quel numero potete utilizzarlo non solo per chiamarci o whatsapparci ma anche se siete aspiranti conduttori o conduttrice volete far parte della nostra famiglia e venire che ne so a partecipare con noi nel nostro programma fanny moon potete farlo perché comunque voglio dire nuove persone nuovi volti all'interno di questo programma fanno sempre comodo ci fa piacere noi ci piace quando la famiglia si allarga quindi se avete voglia di provare a fare questo nuovo mestiere potete contattarci e venire a fare i nuovi volti di questa trasmissione oppure se avete un'attività da promuovere o un evento da proporci potete tranquillamente contattarci noi verremo con le nostre telecamere detto questo sta per partire la puntata che cos'è che diciamo sempre sigla non sei male Grazie a tutti.